super super secondigliano è talmente buona che mi mangerei anche il cartone secondigliano siamo andiamo da carminello vado a farmi una pizza veloce da carminello qui a secondigliano mitico posto carminello vieni 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 grande vai queste sono le nostre qui a secondigliano carminello ma sta preparando questa qui è la pizza al portafoglio a portafoglio a margherita piccola perché è chiusa ah grande saluto anche alla cassiera ok a tutto il mio carino questa è la vostra tagliamela pure tagliamela qui la sta infornando qui abbiamo fatto due margherite qui le sta preparando abbiamo fatto due margherite qui è una una puttanesca grande grazie signora qui sta infornando altre frido che siano anche questa margherita mitico mitico carminello mangiamo sulla strada perché se no ho perduto l'aereo buona e lo so che è buona numero uno carminello numero uno carminello super super secondigliano molto croccante si scioglie in bocca te la sei già bevuta te? no ma era acqua com'è croccante? è croccante gustosa? si scioglie in bocca? aiuta è indescrivibile non potete capire chi è dal nord l'ultimo morso qui da carminello secondigliano pizzeria a livello pizza a livello gustosa croccante talmente buona mi mangerei anche il cartone e qui a secondigliano è pericoloso pericoloso qui perché rischi veramente di ingrassare perché me ne sarei voluto a fare anche un'altra solo che ho l'aereo e devo scappare saluto a tutti ciao ragazzi da Napoli secondigliano